so che anche elementi orientali hanno assimilato questo concetto in un modo orribilmente distorto ma se tu ora dici a un tuo amico o parente sto andando all'ashram per tre giorni diventeranno molto gentili nei tuoi confronti ti chiederanno perché qual è il problema deve esserci qualcosa di sbagliato nella tua vita stai andando nell'ashram per curare una ferita per trovare conforto deve esserci qualcosa di veramente sbagliato nella tua vita o devi essere troppo vecchio per la vita altrimenti perché vorresti andare in un ashram quest'idea si è insinuata anche in questa cultura essenzialmente se sei vivo solo in parte o sei parzialmente vivo essere parzialmente vivo essere parzialmente vivo è una tortura terribile molti di voi hanno partecipato a quei corsi di scienze e sono sicuro che avrete aperto rane scarafaggi vero erano creature belle e vivaci ma voi li avete aperti perché volevate trovare il loro cuore il fegato e i reni vivi a metà essere vivi a metà è una tortura lo avete visto essere vivi a metà è sempre stata una tortura questa è una tortura che un ampio segmento dell'umanità sta affrontando in questo momento perché sono vivi a metà solo una parte di loro è diventata viva solo la loro fisicità e la loro mente sono diventate vive il resto deve ancora diventare le persone vive a metà soffriranno per ogni cosa soffriranno l'ignoranza soffriranno l'educazione soffriranno la povertà soffriranno la ricchezza soffriranno l'essere soli soffriranno l'essere in una relazione se non sono sposati soffrono se sono sposati allora loro se non hanno bambini ne soffrono come se i bambini se ci sono possono venire da te e morderti lo fanno niente figli che cosa stai soffrendo ma anche di questo soffrono mostratemi solo una cosa che gli esseri umani non stanno soffrendo ora solo un aspetto della vita che gli esseri umani non stanno soffrendo in questo momento stanno soffrendo praticamente ogni cosa non solo la vita stanno addirittura soffrendo la morte prima che essa accade vedete lui sta pensando di costruirsi una piramide quello che è e quello che non è soffrono ogni cosa questa non è non stai soffrendo la solitudine non stai soffrendo la compagnia non stai soffrendo la ricchezza non stai soffrendo la povertà quello che stai soffrendo è che sei vivo a metà stai cercando disperatamente di diventare pienamente vivo attraverso i soldi attraverso l'alcol attraverso il sesso attraverso il viaggio venendo nell'asharam in tantissimi modi stai in qualche modo provando a renderti vivo pienamente il che deve ancora accadere nella sua pienezza ogni tanto provi un'esplosione di vitalità ma poi di nuovo si abbassa quindi quando sei costantemente vivo a metà il piacere diventa una parte importante della tua vita una parte molto importante della tua vita senza il piacere non puoi esistere il piacere diventa fondamentale nella tua vita quando sei vivo solo a metà quando la fisicità è tutto ciò che conosci il piacere diventa di immensa importanza nella tua vita se diventi pienamente vivo diventerai così beato gioioso estatico senza ragione esplosioni di estasi dentro di te senza alcuna ragione è quasi imbarazzante ora il solo pensiero del piacere semplicemente svanisce sentire il bisogno di alcolici sentire il bisogno di qualche tipo di cosa piacevole semplicemente svanisce dalla tua mente perché sei pienamente vivo quando sei pienamente vivo il piacere scompare quando sei mezzo morto il piacere è una cosa importante molto importante